Ciao Gossip News Ciao Che ne pare questo festival? Ma io è la prima serata che arrivo quindi non lo so vedrò purtroppo solo un film stasera e poi dovremo partire per Tokyo quindi purtroppo non me lo godrò però insomma sono contento che mi hanno invitato per questa serata Per Tokyo e per presentare Bahria? Sì sì andiamo a presentare Bahria e continuo questa avventura Un'avventura che ti porterà in Giappone ma tu si è semestato? No ma infatti sono molto curioso sarà una bella scoperta credo E' un anno a cui piace viaggiare? Tantissimo tantissimo purtroppo per diversi impegni non l'ho potuto fare tanto fino a un paio di anni fa ma adesso grazie anche al lavoro e alle pause riesco a conciliare le due cose